Musica Sabato 17 febbraio 2024, buonasera, benvenuti con l'informazione di Sternews. Un violento scontro questa mattina a Belpasso fra due automobili venute a contatto all'altezza di un incrocio. Tre feriti, uno di loro è stato trasportato al Canizzaro di Catania con l'elisoccorso e il servizio. E di tre feriti il bilancio di un incidente statale che si è verificato questa mattina a Belpasso poco prima delle 10.30 nel rione Borrello all'intersezione tra via Antonio Gramsci e via Aldo Moro. A scontrasse per causa in corso di accertamento una Fiat Stilo con a bordo un uomo di 63 anni e una Fiat Punto su cui viaggiavano una donna di 56 anni che si trovava alla guida del mezzo e figlio di 26 anni. L'impatto tra i due mezzi è stato piuttosto violento. Sul posto per soccorrere gli occupanti delle due auto, uomini del 115 e distaccamento di paternò che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e ha aiutato le persone che si trovavano dentro le due autovetture. La Punto a seguito dell'impatto si è adagiata anche su una fiancata. Sul posto due ambulanze 118 non medicalizzate provenienti dalle postazioni di Belpasso e Ragan nonché un'auto con medico arrivata da Catania dalla sede centrale del 118. Allertata anche l'eliambulanza atterrata nell'elipista non distante dallo stadio comunale Nuccio Marino. L'elisoccorso è stato richiesto per la donna che si trovava alla guida della Punto. La 56 anni è stata trasportata a Canizzaro di Catania. Non si conoscono ancora le sue condizioni ma non dovrebbe essere grave. Gli altri due occupanti rimasti feriti sono stati condotti negli ospedali di Paternò e Biancavilla. Non avrebbe riportato ferite rilevanti. Sul posto per i trilievi gli agenti della locale polizia municipale supportati dai carabinieri della stazione di Belpasso. Presente anche i volontari della locale protezione civile comunale insieme a quelli della misericordia del belpassese per fornire supporto alle operazioni di soccorso. Le due arterie viare sono state interdette a traffico fino a quando una ditta privata le ha bonificato rimuovendo detriti e oli e il carattrezze ha portato via i mezzi rimasti coinvolti nel sinistro. Migliorano le condizioni di salute del ciclista investito sabato scorso a Belpasso nei pressi del centro commerciale Etnapolis. Il pubblico ministero avrebbe ordinato un'indagine più approfondita per la ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Ma sentiamo il perché. Non sarebbe in pericolo di vita ma è ancora ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania il ciclista cinquantenne che sabato 10 intorno alle 13.30 è stato travolto e trascinato da un furgone guidato da un 35enne nei pressi della rotatoria che si trova alle spalle del centro commerciale Etnapolis. Giovedì scorso è stato sottoposto ad un altro intervento chirurgico. Questa volta al bacino i medici gli avrebbero anche salvato una gamba che era a rischio amputazione. Alle indagini volte alla ricostruzione della dinamica dell'incidente stanno lavorando gli agenti della polizia locale di Belpasso. Una dinamica però non ancora del tutto chiara. Il pubblico ministero ha ordinato infatti un'indagine più approfondita disponendo che sul posto dell'accaduto operassero gli uomini della sezione scientifica per effettuare rilievi più mirati. Si starebbe indagando per verificare l'ipotesi che non si tratti di un incidente. Un'ipotesi che sarebbe giunta a seguito di alcune testimonianze raccolte. Come si ricorderà secondo una prima ricostruzione effettuata nell'immediatezza il ciclista sarebbe stato travolto dal furgone e una volta finito sotto il mezzo sarebbe stato trascinato per una cinquantina di metri prima che il furgone si fermasse. Queste sono tutte ipotesi a cui gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire come detto con esattezza la dinamica. Il malcapitato ha riportato gravi ferite in varie parti del corpo e soprattutto forti traumi al capo e al torace. Trasportato d'urgenza in codice rosso in elicottero al Cannizzaro è stato immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni come detto pian piano stanno migliorando e presto non si esclude che possa raccontare anche la sua versione dei fatti. I commercianti di Adrano scrivono al sindaco e al presidente del consiglio comunale in merito ai disagi che stanno subendo per via dei lavori che vedono la riqualificazione del centro storico. A scrivere una lettera chiedendo un indennizzo sono i commercianti di via Duca di Mister Bianco. Vediamo. Istituire un indennizzo di 6.000 euro da erogare entro il 31 luglio di quest'anno ai commercianti delle zone interessate dalla chiusura al traffico veicolare che ne facciano espressa richiesta. Lo propone un comitato spontaneo dei commercianti di Adrano che quest'oggi ha trasmesso una lettera aperta al presidente del consiglio comunale Carmelo Pellegriti, ai consiglieri comunali tutti e al sindaco Fabio Mancuso con l'amministrazione comunale. Sarebbe uno strumento per cercare di fare fronte al calo delle vendite riscontrato in questi cinque mesi di lavori per la rigenerazione urbana di strade e piazze della città prevista dall'amministrazione attraverso i fondi del PNRR. L'accorato appello alla politica è firmato prevalentemente da esercenti di via Duca di Mister Bianco, la strada della posta per indenderci centralissima arteria che congiunge piazza Umberto con piazza Duca degli Abruzzi e quindi piazza Sant'Agostino. I commercianti chiedono pure che vengano individuate nel bilancio di previsione del comune delle somme utili a riconoscere un indennizzo pari al calo del fatturato riscontrato dagli stessi commercianti negli anni 2023 e 2024. Sia ben chiaro, scrive il Comitato Spontaneo di Commercianti, nessuno è contrario all'ammodernamento del centro storico, alla riqualificazione dei quartieri e più in generale ai lavori pubblici che nel lungo termine porteranno beneficio all'intera comunità. Però, puntualizzano i commercianti, l'attuazione di questo piano paradossalmente ci sta costringendo, dopo che stavamo superando gli effetti della pandemia, ad una sorta di nuovo lockdown da cui potremmo non riprenderci mai. Nel documento, gli esercendi lanciano un accorato appello a tutta la classe dirigente di Adrano. Invitiamo tutti voi a farvi portavoce delle nostre paure e delle nostre angosce, scrivono le stesse di chi non sa se domani riuscirà a portare il pane in tavola ai propri figli. Adesso si attende l'eventuale risposta delle istituzioni cittadine. Sono stati consegnati ieri all'impresa che si è aggiudicata all'appalto i lavori per la ristrutturazione della palestra tenta della scuola media Castiglione. Siamo a Bronte. La struttura sportiva sarà messa a disposizione anche della città. Vediamo. A Bronte albia i lavori per la ristrutturazione della palestra tenta del plesso scolastico della scuola media Castiglione. Alla presenza dell'amministrazione comunale con in testa il sindaco Pino Ferrarello, dei tecnici comunali e della dirigente dell'istituto Maria Magaracci, sono stati consegnati i lavori all'impresa che si è aggiudicata all'appalto. Questa non è una palestra qualsiasi per la città di Bronte, ha spiegato il sindaco Ferrarello. Si tratta di una palestra che è a servizio della scuola media e contemporaneamente della città. Non solo. In questa palestra, prima che si costruisse il palazzetto dello sport, disputava le galle e la gloriosa Aquila Volley. Chiunque Bronte si sia, anche per un solo attimo appassionato per la pallavolo, ricorda le mitiche imprese dei pallavolisti brondesi. Purtroppo, continua il sindaco Ferrarello, essendo coperta con un telone che, pur robusto e soggetto a deterioramento, con gli anni è diventata impraticabile, anche perché oggi sono giustamente più stringenti le norme che bisogna osservare per far partecipare il pubblico alle gare che si svolgono in una palestra coperta come questa. E allora, ribadisce, grazie ai fondi che l'Ufficio Tecnico del Comune aveva richiesto partecipando ai bandi PON per la scuola, ovvero i programmi operativi nazionali finanziati dalla Commissione Europea, siamo riusciti a ristrutturare questo impianto e metterlo a disposizione della scuola media e della città. Non rifaremo soltanto il telone, ha specificato l'assessore Maria De Luca, ma anche gli impianti e i servizi igienici, mettendo a norma le tribunette e le uscite. Realizzeremo, infatti, una seconda via di fuga da via Carneade, realizzando un ingresso indipendente dall'istituto scolastico. Questo ci permetterà di mettere la palestra a disposizione dei cittadini nel pomeriggio o nelle giornate non frequentate dagli studenti. Ovviamente, questi lavori, ha concluso l'assessore De Luca, completano tutta una serie di interventi realizzate nella scuola media Castiglione che hanno visto realizzare il cappotto termico, i servizi in quasi tutto l'istituto, gli impianti fotovoltaici e gli altri campetti gioco. L'impresa si è impegnata a completare l'opera prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Nove consiglieri comunali di opposizione a Paternò chiedono all'amministrazione comunale attraverso una mozione di intitolare il Palazzo delle Arti, ex sede dell'ospedale Santissimo Salvatore, alla pittrice del 500, Sofonisba Anguissola. Sentiamo. Intitolare l'attuale Palazzo delle Arti, ex sede dell'ospedale Santissimo Salvatore di Via De Normanni nel quartiere della Gancia, a Sofonisba Anguissola. Si tratta di una proposta inoltrata al sindaco di Paternò, Nino Naso, a Presidente del Consiglio, Marco Tripoli, al segretario comunale, da nove consiglieri di opposizione. Una richiesta che arriva grazie ad una mozione sottoscritta da Maria Barbara Benfatto, prima firmataria, Lorenzo Terranova, Sabatore Frisenna, Gabriele Di Fazio, Alfio Virgolini, Lionella Catena, Giovanni Piana, Angelo Calenducci e Salvo Tomasello. I firmatari della mozione ricordano l'importanza di Sofonisba Anguissola per il territorio. Si tratta di una pittrice di Cremona che ha vissuto a Paternò per cinque anni, dal 1573 al 1578, essendo la moglie di Fabrizio Mongata. A Sofonisba Anguissola vengono attribuiti due dipinti di rara bellezza, quali la Madonna dell'Itria e la Madonna della Raccomandata, di recente restaurate e che si trovano attualmente all'interno della chiesa dell'ex monastero di Piazza Indipendenza, sempre a Paternò. I consiglieri sottoscrittori sostengono che è doveroso e opportuno celebrata in modo significativo la figura dell'artista, si legge nella mozione, posto che le sue opere hanno determinato una positiva ed efficace azione nella nostra comunità, tale da incoronarla, quale artefice di un rinnovato interesse culturale che anima tutto il territorio, si legge ancora nella mozione. Tuttavia, bisogna ricordare le condizioni pietose in cui versa il Palazzo delle Arti, ormai chiuso da tempo. Sarebbe opportuno, a detta di molti cittadini, che si lavori anche per trovare le risorse necessarie per riqualificare in tempi brevi la struttura e riconsegnarla, così, nella disponibilità della città. Si chiama Coltiviamo Bellezza ed è l'iniziativa del presidio partecipativo del patto di fiume Simeto che si è svolta questo pomeriggio a Paternò nell'area verde di Via Fonte Maimonide. A partecipare alla pulizia dell'aria anche i volontari di Plastic Free. Ma sentiamo Razio Caruso. Ci troviamo a Paternò nel parco di Via Fonte Maimonide dinanzi all'ex Macello. Quest'oggi continua l'iniziativa promossa dal presidio partecipativo del patto del fiume Simeto Coltiviamo Bellezza. Una iniziativa che vede la collaborazione di diverse associazioni attive sul territorio prima fra tutte Plastic Free. Oggi si sta ripulendo il parco da cicche di sigarette da bottiglie e tutto quello che è stato trovato da parte dei volontari di Plastic Free. Nel contempo i componenti di altre associazioni hanno piantumato, sistemato, messo a dimora altre piantine dopo quelle che erano state piantate qualche mese addietro. L'obiettivo, come dicevano Carmelo Caruso e Letizia Pitero ai nostri microfoni è quello di valorizzare il territorio con il coinvolgimento dei cittadini. Abbiamo avuto la collaborazione di Plastic Free quindi abbiamo iniziato la giornata che sta continuando con la raccolta della plastica, delle cartacce e dei rifiuti che ci sono nelle aiuole. Devo dire comunque che da già qualche mese abbiamo ottenuto anche la collaborazione più effettiva della Dasti che tutti i sabato di pomeriggio dopo il mercato è qui quindi in Gatoro ci danno una mano. E contemporaneamente con le altre associazioni stiamo facendo un po' di manutenzione anche delle piante se ci sono delle piante che sono un po' abbacchiate le sistemiamo, gli diamo l'acqua ne stiamo piantando alcune di nuove e poi stiamo realizzando anche piccoli interventi di arredo urbano con dei portacestini e una targa per ricordare Luigi Puglisi Andrea Di Stefano Pippo Bonomo Nidolo Inghitano e tutti gli attivisti che non ci sono più e che ci hanno dato una grande mano. Devo dire che già le aiuole queste aiuole qui davanti le abbiamo già saturate quindi sicuramente andremo a riempire anche altre aiuole più avanti ci teniamo anche a dire una cosa importante che tutto questo lavoro si sta trasformando anche con la collaborazione del Comune in un patto di collaborazione che altro non è che un laboratorio di collaborazione di sussidiarietà per la gestione condivisa degli spazi pubblici e responsabilizzare anche i cittadini e le amministrazioni insieme per valorizzare i nostri luoghi. Noi stiamo partecipando ad un meraviglioso progetto che si chiama Coltiviamo Bellezza abbiamo organizzato io e Chiara l'altra referente comunale di Paternò abbiamo questo evento aperto anche alle altre associazioni in collaborazione con i Lions il patto del Simeto Vivi Simeto gli Scout siamo in tanti una bella partecipazione oggi ne approfitteremo anche per piantumare ancora delle piantine che fanno parte di questo progetto ci prendiamo cura di quest'area ci siamo allontanati anche fino alla rotonda purtroppo raccogliamo una quantità di immondizia che vedete qua in giro enorme ancora troppo 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 cosa avete trovato di particolare? in questa zona si trovano tante bottiglie di vetro lattine quindi c'è chi bivacca e butta tutto nell'aiole pensando che comunque non sia spazzatura le cicche di sigaretta sono sempre in gran numero e poi quello che porta il vento per cui carta plastica questo purtroppo è una cosa con cui combattiamo sempre un appello ai cittadini comunque a tutti coloro che usufruiscono di questo parco non solo del parco anche di tutto il resto del paese sicuramente se evitiamo di buttare la spazzatura a terra e utilizziamo i cestini che stiamo mettendo oggi o la riportiamo a casa perché la scusa non c'è il cestino è veramente troppo vecchia troppo banale ed evitare di mangiare qui sulla panchina e buttare tutto dietro le spalle e di far finta che la città sia di qualcun altro e non la nostra noi diciamo sempre che mantenere pulito è molto più semplice che pulire quindi un piccolo sforzo da parte di tutti potrebbe rendere migliore questo paese 82 anni a maggio e ancora tanta voglia di fare il sacerdote missionario di Biancavilla Francesco Laudani martedì partirà nuovamente in missione in Congo per aiutare le popolazioni che vivono in uno stato di povertà assoluta dopo aver affrontato e superato problemi di salute e dunque pronto per ripartire attraverso le telecamere di Videostar padre Laudani vuole salutare e ringraziare la comunità per il sostegno dimostrato in questi anni vediamo io voglio ringraziare prima di tutto voi di Videostar per questa disponibilità a questa intervista ringrazio anche la cittadinanza in modo particolare nelle varie parrocchie dove ho potuto parlare della missione e ho trovato l'accoglienza e l'affetto e la preghiera della gente per il mio servizio missionario in modo particolare voglio ringraziare il Signore andando per la mia salute e per la possibilità di ritornare ancora in missione la mia vita è per la missione noi siamo missionari non per un periodo ma a vita finché c'è salute noi lavoriamo in missione attualmente mi trovo in una situazione nuova prima ho lavorato 28 anni con i pigmei in tutto in Congo io ho fatto 52 anni di servizio adesso però con l'anzianità che c'è sono in una parrocchia al nord del Congo nella cittadina di Buta assieme a due confratelli congolesi di 30 anni così giovani due anni di messa i quali lavorano molto più allagramente di quello che posso fare io io resto al centro loro vanno in giro nelle varie cappelle del territorio della missione che occupa 109 chilometri di strada inaccessibili anche perché ci sono difficoltà non esistono strade da noi e quindi loro vanno in giro e io resto più o meno verso il centro la popolazione che trovo qui a Buta è una zona veramente povera posso dire quasi come la popolazione pigmea allora noi abbiamo da costruire una chiesa perché abbiamo un piccolo locale che era una chiesa crollata che la dioce si è ricostruito perché arrivavamo noi missionari però era una cappellina in cui non è possibile diventerà col tempo un salone parrocchiale noi viviamo in una casetta in affitto quindi abbiamo da costruire una casa per noi e la chiesa col tempo anche con la collaborazione della gente la gente di fatti ci ha aiuto molto fin dal primo inizio noi non avevamo né elettricità né acqua perché non c'è né in città né presso i villaggi quindi tutto funziona un po' o perché fai un pozzo o perché vai alla sorgente di fatti i cristiani dopo la messa al mattino prendevano i secchi andavano alla sorgente e ci procuravano l'acqua per lavarci per vivere in missione nella diocesi c'è una povertà immensa anche da parte di preti viviamo così con l'adesione della gente nella speranza di creare una comunità cristiana aperta la difficoltà che noi viviamo è una difficoltà sociale non essendoci comunicazione non essendoci strade la gente non ha possibilità di smerciare i loro prodotti e le cose invece che arrivano hanno prezzi esorbitanti per le difficoltà della strada ancora la situazione del Congo è una situazione all'est verso l'Uganda e Ruanda che è di guerra già da 20 anni lei adesso quando partirà? a martedì prossimo quindi per questo ho chiesto la possibilità di salutare tutti quelli che possono seguire Videostar e la cittadinanza di Biancavilla ringraziandolo delle loro solidarietà verso la missione e chiedendo anche l'aiuto nella preghiera nell'appoggio ad essere missionari perché stiamo entrando e siamo entrati in Quaresima in attesa della Pasqua noi la nostra vita cristiana parte da questa povertà riconoscere che abbiamo bisogno che siamo fragili per arrivare alla gloria della risurrezione come ci si arriva? Gesù Cristo ci è arrivato attraverso la passione dobbiamo salire gradino per gradino attraverso il nostro impegno cristiano di vita aderente alla fede che professiamo quindi io spero che la risurrezione di Cristo questa speranza ci aiuti a rinnovarci e a dare il nostro appoggio per l'annuncio del Vangelo anche nei posti più lontani e difficili saluto a tutti voi grazie della vostra amicizia e con questo servizio è tutto grazie per averci preferito a voi tutti una buona serata e una buona domenica grazie a tutti